A Spalato interessa molto la musica italiana e quindi io sono qui per presentarla al pubblico croato anche a tutti coloro che non sanno italiano che non sanno nemmeno una parola però capiscono la musica. Personalmente noi siamo contenti di essere qui anche quest'anno a questa settimana qui a Sanremo girano dei nomi che anche all'estero gli italiani all'estero non possano non conoscere, mi riferisco a Cocciante prima di tutti ma anche tutti gli altri da zucchero, tutti quelli che arrivano insomma. Faccio parte di una generazione in Italia che in fondo a quell'epoca ha un po' annullato Sanremo nel senso che la generazione di mia, di Francesco De Gregori e Venditti eravamo un po' un po' una rivoluzione in Italia e quindi il nostro modo di pensare all'epoca era un modo che voleva rinnovare completamente la musica quindi in quel periodo Sanremo è un po' scomparso, non un po' molto scomparso e poi è rinato piano 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 si è rifatto insomma una strada gradualmente risalito e io sono andato nel 91, stavo in quel momento vivendo a Miami, sono stato lì 3-4 anni e quando sono tornato ho voluto darmi un po' una sfida, quella che di andare a Sanremo per me era un fatto molto atipico perché non avrei dovuto partecipare a Sanremo, non è nella mia generazione di fare questo tipo di atto e sono tornato con la canzone Si stiamo insieme e che ha vinto. Sanremo, per i giovani artisti tu trovi che sia ancora un passaggio obbligato? Io trovo che non dovrebbe esserlo, non dovrebbe essere una situazione così in Italia, quello del passaggio obbligato a Sanremo per essere lanciati, però purtroppo ci troviamo quasi in questa situazione, nel senso che gli discografici aspettano il momento per lanciare un ragazzo approfittando del concorso di Sanremo. Sarebbe più bello secondo me poter scegliere diverse strade per poter lanciare un nuovo artista, ma l'Italia ha questo imbuto sanremese e i giovani purtroppo devono passare soltanto da questo. L'importante è che questo palcoscenico abbia cominciato a testare sapori nuovi, a permettere a musiche attuali, insomma, quanto a nuove generazioni, parlo di after hours, parlo di gemelli diversi, parlo di tricarico, eccetera, eccetera, di potersi esibire e cominciare parzialmente a contaminare una tradizione meravigliosa che questo festival ha con qualcosa che appartiene a quella che sarà sicuramente nei prossimi anni la nuova tradizione, la nuova musica in Italia. È stata un'esperienza positiva perché paradossalmente l'eliminazione ha fatto notizia, per cui il giorno dell'eliminazione l'abbiamo fatto il triplo della promozione del giorno prima. Per noi che siamo degli alieni in questo festival comunque essere sottolineati anche con un'eliminazione è stata una fortuna perché ci ha dato un sacco di attenzione intorno. Non so se questo conti col fatto che abbiamo vinto il premio della critica, però penso che un po' sì, un po' arrivare ai dodicesimi vuol dire passare inosservati, essere eliminati la prima giornata invece vuol dire comunque che è appunto avere attenzione. E tu vuoi far qualcosa che serva E farlo prima che il tuo amore si perda Non ti accorgi che se lo vuoi tu Quel che vale va poi non vale più Ovviamente c'è una risonanza talmente unica e non paragonabile a nessun'altra manifestazione in Italia per cui anche un gruppo rock come noi viene a una manifestazione del genere per cercare di far passare il messaggio e far sentire la propria musica, le proprie parole a quanta più gente possibile. Si mantenga ogni anno la tradizione per cui chi arriva, non dico ultimo, ma nelle ultime posizioni poi in realtà funziona nel mondo reale, cioè là fuori in realtà viene ascoltato, viene seguito e invece chi vince al festival raramente riesce poi a riconfermarsi. Come si vince a San Ray? Bisogna convincere un sacco di persone, bisogna convincere la gente a casa che vota con il televoto quindi con il telefonino e quindi spendendo anche qualche centesimo di euro bisogna convincere le giurie tecniche e abbiamo avuto sia la giuria dei professori d'orchestra che le giurie delle due sale stampa, la sala stampa dei quotidiani e la sala stampa della radio e poi bisogna convincere dei giurati popolari che sono stati portati all'Ariston e occupavano tutte le gallerie del teatro e anche loro hanno votato quindi bisogna convincere un sacco di gente per poi vincere Sanremo. Le eliminazioni erano feroci nei primi anni, addirittura ci fu un caso di cronaca ancora controverso dopo tanti anni di un cantante eliminato che si tolse la vita. Per saper se domani si vive o si muore è un bel giorno di repatta e andare via C'è amore, c'è amore, c'è amore, c'è amore Luigi Tenco venne trovato morto con una lettera scritta di suo pugno nella quale diceva io non posso vivere in un mondo che manda in finale una canzone come io, tu e le rose e non la mia dubbi ce ne saranno sempre dopo quel Sanremo del 1967 però davvero in quegli anni le eliminazioni erano crudeli cioè il pubblico davvero le viveva molto e i cantanti le soffrivano moltissimo e il pubblico davvero e il pubblico davvero